Questa è tutta la corrispondenza per poter avere la gara Cioè questa è una sola gara? Una sola, una sola Quante persone deve far lavorare per produrre queste? C'è una persona fissa più altre due persone che ogni volta devono dare una mano E pensare che qui lavorano praticamente solo per la pubblica amministrazione Fanno software per gli ospedali Ma dopo che hai ottenuto la gara d'appalto e fatto il lavoro ricominciano i guai Perché per fatturare per la pubblica amministrazione bisogna fare la fattura elettronica Che non è una semplice fattura che si manda via mail Non è semplicemente una fattura che invio via mail Questo è il manuale di istruzioni per compilare la fattura elettronica 135 pagine, solo per l'intestazione 37 E poi dobbiamo ancora iniziare Codice e ori, che se scartabelli un po' viene fuori che non è obbligatorio Codice IPA, si trova su un sito internet Codice CUP, che non è dove si prenotano gli esami del sangue E codice CIG, che non è cassa integrazione guadagni No, è un'altra cosa E non è semplice neanche per gli addetti ai lavori Un paio d'ore, un professionista, magari che è abituato a comporre, a compilare fatture Ce le mette la prima volta E quando sei diventato bravo, ci impieghi una mezz'oretta per una fattura Ogni qualvolta lavoriamo per non produrre ricchezza effettiva Evidentemente è spreco E quando sei diventato bravo, ci impieghi una mezz'oretta per la prima volta E quando sei diventato bravo, ci impieghi una mezz'oretta per la prima volta